Però dato che noi sappiamo tra poco Fulvio purtroppo dovrà andare via, ma noi vogliamo assolutamente bastare l'incapacità del prof sui calci di rigore perché abbiamo visto che è una... E se poi mi fa gol? No, guarda. E se fa gol cosa faccio? Non la quota, non è anche più l'ipotesi che lui possa farti gol, no prof? È come il gol... Esatto. An tolta. A questo punto... Allora facciamo così, se fai gol l'Italia vince il mondiale. Se fai gol l'Italia vince il mondiale. Allora, vediamo com'è. Chi prendo? Pirlo. Eh no, è Pirlo. Allora hai il 90% di probabilità di far gol, scusa, non vale. Ok. Chiellini. Prendo Campbell, quello della... Che è? Campbell, quello della Costa Rica. Eh, allora lo devo parlare, se no è un brutto presagio, eh. Eh, ma no, ha battuto da lì. Eh, ma allora. Ma poi dal dischetto, ma tanto non sono indecente a tirare i rigori, è già un po'. Eh, ma scusa, da lì non potevi mettere un po' più vicino, no? Abbiamo anche noi l'occhio di Falco. Oggi... La tecnologia. Ma tanto così tiro per forza di là, cioè. Ti metto così. Esatto, la porta un po' troppo avanti, in effetti, cioè. Scusa. Dai che se la trasmissione finisce. Pronti? Vado, eh. Vai. Fischio. E gol! E gol. Eh, ma se l'hai fatto fare per far vincere il bambino. Per far vincere l'Italia. Anche secondo me. L'ha fatto assolutamente apposta. L'ho fatta apposta. Eh, dì. Scusa. Scusa. Grazie per la visione!